Non avendo abbastanza soldi a disposizione ho sempre pensato non posso fare determinati passi di rinnovo, di bonifica in casa perché ho detto, sì vorrei un divano nuovo, non c'è soldi per comprarlo, quindi non tengo quella schifezza che c'è lì. Allora a un certo punto io cosa ho detto? Vaffanculo, io faccio, spazio, faccio vuoto, poi arriverà. Quindi nell'attitudine mentale che ho messo io in casa mia cosa ho fatto? Ho iniziato a togliere dei mobili, a fare pulizia, a levare, eliminare, ed è saltato chi regalava un divano proprio come piaceva a me. Quindi voglio dire inizia Andrea, inizia a fare pulizia, inizia a togliere tutto quello che è in più qua, perché la lucidità mentale arriva anche dalla confusione, se tu togli la confusione che c'è in casa tua, anche con la testa sei più libero, anche lo spazio intorno è più libero ed è più facile essere libero nella testa, serve. Quindi fai una, come si dice, c'è una parola, comunque io non me la ricordo adesso, tu prendi, dice ok questo mi serve, questo no, via, via, scatolone, cantina se non vuoi buttare, regala, fai, tieni solo quello che ti serve veramente, il resto liberati, come ti liberi da questo vento, nella tua testa si libera a uno spazio incredibile, hai più lucidità e tranquillità, nella confusione che ti libera, è come fuori dentro, è come dentro fuori, ti aiuto. Grazie, sei maestro. Grazie a tutti. Grazie.